Francesca Fialdini torna domenica 13 novembre, alle 17.20 su Rai 1, con una nuova puntata di Da Noi. La ruota libera, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica. Questa settimana, saranno ospiti in studio, Raul Bova, attore amatissimo dal pubblico, dal 17 novembre di nuovo al cinema con il film natalizio. The Christmas Show, Alba Parietti, che parlerà tanto della sua vita privata quanto di quella professionale. A poche settimane dal ritorno alla conduzione di, Non sono una signora, in onda dal 7 dicembre su Rai 2, Gabriele Cirilli, grande protagonista dell'ultima edizione di successo di, Tale e Quale Show, dove ogni venerdì si esibisce in coppia con Francesco Paolantoni. e Diana del Bufalo, voce della colonna sonora del cortometraggio di Natale della Disney, Il Dono, e impegnata a teatro nella nuova fortunata tournée di, Sette Spose per Sette Fratelli.